Le poste dalla quarantena scatenano un nuovo allarme sociale, quello delle violenze domestiche che rischiano di aumentare. Dall'inizio di marzo le chiamate al 15-22 sono state dimezzate. Luca Nel. Il coronavirus ha messo in ginocchio il pianeta, costringendo ad una quarantena, che ora inizia tristemente a presentare il conto anche dal punto di vista delle convivenze più difficili. L'obbligo di permanenza nell'abitazione aumenta a gioco forza il rischio di violenze domestiche, con tante donne, che rinunciano a denunciare maltrattamenti per via di convivenze forzate che potrebbero portare ritorsioni e conseguenze ancora più spiacevoli. In Sardegna a marzo ha fatto registrare un calo drastico di chiamate al 15-22 il numero antiviolenze stalking. Si parla di circa il 50% di telefonate in meno. Lo ha fatto notare anche la ritrice dell'Università di Cagliari, Maria del Zompo, che ha spiegato come per alcune donne diventi difficile chiedere aiuto anche solo con una telefonata, soprattutto per il timore di essere aggredite successivamente. Il dato ha fatto scattare sull'attenti il gruppo dei progressisti, che ha chiesto che gli sportelli d'ascolto restino aperti. Secondo la delibera regionale del 26 marzo, le consulenze sono disponibili infatti solo in caso di estrema urgenza. Una delibera che la consigliera, Maria Laura Orru, definisce lacunosa e dannosa per le donne vittime di violenza domestica. Laura Orru ha sottolineato poi la problematica derivante dalle autocertificazioni. Le donne che riescono a uscire di casa per chiedere aiuto devono dichiarare dove stanno andando e il motivo per cui si stanno allontanando dalla loro abitazione. Non tutte lo vogliono fare, ha spiegato la consigliera dei progressisti, per paura di essere scoperte dal loro maltrattante o per timore che la gente che effettua il controllo le possa conoscere, soprattutto nei piccoli comuni. Sul tema si espressa anche la presidente della commissione pari opportunità del comune di Cagliari, Stefania Loi, che ha chiesto che la procura allontani dall'abitazione il maltrattante. Si tratta di un'emergenza nell'emergenza che necessita di un intervento nel breve termine, per evitare di dover pagare costi ancora più drammatici.